Un editoriale del principale quotidiano finanziario olandese FD applaude al recovery plan di Mario Draghi, è come Ercole il può riscattare l'Italia in e. Sembrano lontani gli istrali dei falchi olandesi contro le finanze italiane e gli ultimatum di Mark Rutte. Ma resta un dubbio, cosa succede quando Super Mario non c'è più? Di tutti i muri da abbattere, questo era uno dei più granitici. La stampa olandese elogia l'Italia di Mario Draghi e il suo recovery plan. Tutto vero, et finance il Dagblad FD, il primo quotidiano finanziario del paese, si lancia in un lungo applauso alla politica economica italiana con un editoriale dal titolo eloquente, l'Ercole Mario Draghi farà tremare l'Italia? Miracoli, dopo decenni di stagnazione economica, l'Italia può farne buon uso, esordisce l'articolo. A Roma, si è invertito un trend, le riforme, non sono più una minaccia, ma un'opportunità. In un'estate che vede l'Italia finalista Wimbledon e Wembley succede anche che la frugale Olanda di Mark Rutte, il dottor strarigore, batta le mani al PNRR italiano. E pensare che è passato solo un anno da quella copertina della rivista olandese El Sevier Whiteblood, un italiano speso al sole a sorseggiare vino, un olandese impegnato a sudare in fabbrica, e un titolo accusa, noi lavoriamo per pagare le vacanze agli italiani. Ma all'epoca a Palazzo Chigi c'era un altro inquilino, Giuseppe Conte. Il suo governo, accusa ora FD, ha perso tempo prezioso a discutere con Bruxelles sulle riforme, mentre Draghi, ha raggiunto un accordo nel giro di due mesi.